Accolti dal Vice Presidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba, sono stati ricevuti a Palazzo Lascari i corsisti del Master of Laws in Intellectual Property del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, CIFOIL, accompagnati da Elisa Vittone, Assistant Director del Master. Dopo la proiezione di un video sul funzionamento del Consiglio e della Giunta regionale, Luigi Boggio, Presidente dello Studio Torta, ha svolto un intervento illustrando la situazione in Italia, in particolare in Piemonte, relativa alla lotta alla contraffazione e alla normativa sui marchi, brevetti e proprietà intellettuali.